Polemiche e proteste hanno accompagnato la seconda udienza del processo per la morte di 40 persone avvenute il 28 luglio del 2013 a bordo del bus che precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napo-Nicanosa. Il giudice, dopo una camera di consiglio durata due ore, ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile da parte dell'associazione Vittime A16, preseduta da Giuseppe Bruno, che nell'incidente ha perso entrambi i genitori. L'associazione, questa la tesi del magistrato, si è costituita dopo l'avvenuta tragedia. La stessa decisione è stata assunta nei confronti della società assicurativa Reale Mutua, che però aveva autonomamente presentato istanza per uscire dal processo. Il giudice ha invece accolto la richiesta della pubblica accusa di acquisire agli atti del processo la perizia tecnica irripetibile, commissionata dall'ufficio del pubblico ministero e consegnata pochi giorni dopo l'incidente. La difesa dei 15 imputati, 12 dei quali ex dipendenti o dipendenti di Società Autostrade per l'Italia, accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e falso in atto pubblico, aveva invece chiesto il non accoglimento in quanto non garantirebbe il contraddittorio di persone, oggi imputate, che alla data della redazione della perizia non lo erano. Le prossime udienze sono state fissate per il 9 e il 29 novembre, quando verranno ascoltati i primi testimoni. Nella prossima udienza, chiamati dalla pubblica accusa, deporranno in aula due sottufficiali della Polstrada e un ufficiale della Polizia Giudiziaria, che hanno partecipato alle indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Intanto la protesta dell'Associazione Vittime a 16, i cui componenti si erano incatenati davanti alla sede del Tribunale per protestare contro la decisione del giudice e di escluderli dal processo, si è conclusa senza generare tensioni di alcun genere.